Il sogno di Muni Sigona diventa un progetto con la posa della prima pietra della casa di Toti. Da sabate i lavori, che trasformeranno una villa settecentesca incontrata a San Filippo a Modica in un albergo etico, sono ufficialmente cominciati. Grazie ad un intenso fundraising, che ha trovato l'adesione di 23 imprenditori siciliani e un rapido superamento di tutti gli adempimenti burocratici, si potrà procedere con la realizzazione della comunità residenziale per disabili, dove si concilieranno impresa sociale e occupazione, ribaltando il concetto di assistenza ai ragazzi, che da fruitori del servizio ne divengono assistiti da tutor specializzati gestori. L'obiettivo dell'albergo etico è infatti proprio quello di dare lavoro e quindi dignità e futura a tutti i ragazzi speciali come Toti, figlio di Muni che da diversi anni ormai si batte per la realizzazione del progetto. Una donna forte, che quest'estate all'interno del concorso internazionale di poesie Viva la mamma, è stata insignita del premio Mamma Speciale. Si avvera questo sogno, io sono molto contenta, adesso dobbiamo continuare, adesso mi dovete stare ancora più vicini, imprenditori che ci siete e imprenditori che entrerete, perché grazie al fundraising, quindi al sostegno di imprese dal cuore grande, la casa di Toti ci sarà. Sarà un albergo etico, sarà gestito da ragazzi speciali assistiti da tutor, dove questi ragazzi da fruitori del servizio ne diventano gestori. E io, come dico sempre, desidero che questa idea sia contagiosa, perché noi famiglie speciali possiamo rimboccarci le maniche e ce la facciamo. L'albergo etico, inoltre tra i progetti adottati da Fran Cantonello e i bambini delle fate, anche loro presenti alla posa della prima pietra. Noi siamo una fondazione che si occupa proprio di finanziare progetti per ragazzi con disabilità. L'avremo in tutta Italia, questa è la prima pietra che mettiamo in Sicilia, e non solo noi, però grazie soprattutto a 23, per il momento, imprenditori di Catania e di Ragusa, che stanno permettendo tutto questo finanziariamente. Perché, come si sa, i progetti sono tanti, ma ci vogliono anche organizzazione e risorse finanziarie, altrimenti non si realizza nulla. Sabato è stato dunque un momento di festa, che ha visto una grande presenza di pubblico. In tanti hanno tenuto ad essere presenti al fianco di Muni, arrivando anche da Catania. Tra gli altri la presidante Antonella Lupe, lo psicologo Andrea Pennisi dell'Istituto De Nicola di San Giovanni La Punta, che frequenta Toti, intervenuti insieme ai compagni di classe. Grazie a tutti.